Collettivo Universitario Autonomo, con la partecipazione di Univout.org, Anomalia, Danlarù Infoshop, Infoout.org, presenta Batti il tuo tempo Festival, Bologna, zona universitaria, dal 5 all'8 giugno 2012, 4 giorni di arte, cultura, politica, società dal basso. 5 giugno, Giardini di via Filippo Re, Antifa, dalle 21, Danso l'antifascista con bandole Euro Movement, Ematoras, Lude Family, Wicked Day, Ginko Autavilla da posse. 6 giugno, via Zamboni, dalle 18, parole dal basso, reading, letture, suoni, performance in ricordo di Stefano Tassinari e Alberto Dubido, con Marco Filopa, Ghemon, Lello Voce, Paul G and more guests. 7 giugno, Giardini di via Filippo Re, un calcio alla TAV, dalle 17, torneo di calcetto, grigliata sociale, presentazione del campeggio estivo notale in Val Susa, a seguire Hip Hop Night contro la TAV, con Arena 051, Dongo Ko, Loop Luna, chiave. 8 giugno, Giardini di via Filippo Re, dalle 21, presentazione del libro La Collera della Kashma, sulla rivoluzione tunisina, dell'autore Fulvio Massarelli e il militante rivoluzionario tunisino Nidal Shamek. A seguire Funky Night con DJ Nungi, Deda aka Kazuma and more. More info on www.unibout.org. Riprendiamoci tempi, spazi e saperi. Batti il tuo tempo! Batti il tuo tempo!